Appurato sul campo contro il Bologna che questo Napoli un'anima ce l'ha, Walter Mazzarri traccia un primo bilancio della sua esperienza partenopea, rivolgendo uno sguardo ai prossimi impegni di campionato, al Tour de Force che vedrà nell'ordine il Napoli opposto a Fiorentina, Milan e Juventus. Vanno sapute gestire le vittorie, ma questo non tanto dal punto di vista mediatico, ma io intendo proprio con i miei giocatori. Insomma bisogna capire subito che se si vuole dare continuità ai risultati le vittorie vanno tra virgolette scordate subito e mettersi a lavorare e correggere gli errori che abbiamo fatto per migliorare la partita successiva. Ho avuto la riprova quella giusta che questa squadra ha lottato anche quando erano stanchi, hanno finito alcuni giocatori distrutti e hanno buttato il cuore davanti all'ostacolo. Questo già è la prima cosa che per far bene ci vuole in questo tipo di calcio. In più, ora per dire, poi c'è anche sempre gli avversari davanti, ora per esempio andiamo a Firenze, io non posso andare tanto lontano a dire cosa si farà, c'è la prossima. Io vorrei vedere intanto fuori casa se potessimo far vedere che siamo una squadra compatta, che non siamo in difficoltà. Sappiamo anche fuori casa, insomma, per ora le cose non sono andate tanto bene, vorrei vedere a livello di prestazione, di solidità di squadra, di far vedere a Firenze siamo una squadra tosta. A volte si usa il bastone, a volte la carota, io credo che come allenatore vorrei essere, così l'ho sempre fatto, per loro un punto di riferimento sicuro, uno che li protegge, che li difenderà sempre, sempre che loro siano leali e che diano tutto nei miei confronti. La definizione di un giocatore completo come Ampsic non è facile, però è un giocatore che comunque è qualcosa di movimento libero, bisogna lasciarglielo perché è proprio una delle sue caratteristiche, però deve rientrare in un contesto tattico perché se no, se ci sono troppi giocatori, tra virgolette, che gli si lascia tanto spazio di movimento, poi ne va di meno l'equilibrio di squadra. Il mio calcio è quello di non dare punti di riferimento, entrare tutti in un calcio totale, che poi se voi avete visto l'Inter, senza punte vere, con una punta sola, ha fatto una gran partita, ecco, quel tipo di atteggiamento lì a me piace molto e Quagliarella può fare tutte e tre ruoli dell'attacco. Se dovesse rimanere quello un pochino, il perno un po' più offensivo, io voglio che lui svari, che poi magari lui se vuole si può anche arrivare a andare lui incontro a prendere la palla, purché ci siano sempre altri due o tre che si buttano dentro l'aria.